A Savigliano è tempo di cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi previsto il prossimo autunno. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegrande. Ora ci spostiamo a Savigliano, pagina culturale, è stata presentata la terza edizione di Cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi che andrà in scena nel prossimo autunno, organizzata da un'associazione di giovani saviglianesi, la Kermes conta quest'anno, un'idea edita sezione tematica chiamata viso a viso, dedicata al rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Il bando di partecipazione verrà aperto martedì 1 maggio. Verrà aperto il prossimo 1 maggio il bando di partecipazione alla terza edizione di Cortocircuito, il film festival dedicato ai cortometraggi che andrà in scena a Savigliano nel prossimo autunno dal 22 al 28 ottobre. Organizzata dall'associazione giovanile nata ad hoc cortocircuito, la Kermes si articola quest'anno in due sezioni, quella generale dedicata alle opere a tema libero della durata massima di 30 minuti e quella tematica tutta nuova denominata viso a viso che come testimonia la locandina riportante la sagoma del re di pietra è incentrata sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda, sulla scia di quanto promosso dal progetto UNESCO MAB e di cui fa parte la riserva della biosfera trasfrontaliera del Monviso. Inoltre ci saranno altri due premi speciali, uno legato al miglior cortometraggio di animazione che sarà attribuito da una giuria composta da membri dell'Accademia d'Arte Novaglia di Savigliano e un premio invece dedicato ai giovani, quindi ai cortometraggi realizzati da under 19 o dalle scuole, anche lì attribuito da una giuria apposita. La giuria è stata profondamente rinnovata quest'anno a partire da Emanuele Caruso che è il regista sulla bocca di tutti in questo momento nella zona con il successo di pubblico e di critica della Terra Buona a cui si aggiungono altri giurati di altre categorie cinematografiche. Per esempio per il mondo della distribuzione abbiamo Manuela Michetti, per la parte più tecnica un montatore famosissimo a livello nazionale e anche regista come Paolo Favaro e poi per la critica Chiara Pani di Notturno, una rivista alternativa di critica cinematografica. Manca ancora il presidente di giuria che per ora ci dimentiamo soltanto a dire che è ancora in fase di ricerca e speriamo di trovare qualcuno che possa superare la fama dei libri precedenti. E poi ci saranno anche una serie di eventi collaterali anche come l'anno scorso. Sì, assolutamente sì, come già l'anno scorso cercheremo di creare degli eventi collaterali oltre al festival stesso perché l'associazione Cortocircuito lavora tutto l'anno per il festival ma vuole creare degli eventi ricorrenti. Dopo i 539 cortometraggi provenienti da 48 paesi diversi dell'anno scorso ci aspettiamo di ripetere il successo e di incrementare anche in termini di pubblico nelle sale che comunque l'anno scorso aveva già stato ottimo. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!